Pronto? Qui è il signor Silvio? Buongiorno sono Gennaro Gennaro Manitù Siamo qua, siamo a Via Cuba Principe stiamo organizzando tutti quanti la riunione voi che fate? Venite? intorno alle 12? Non mi capisco Nonna Sto parlando italiano signor Silvio Non mi capisco si Gennaro G Allora sono Gennaro Manitù della cappella, quella la che sta qua dietro non so se avete visto, abbiamo messo anche i manifesti scusate, forse ho dato per scontato che voi li avete letti, abbiate paziente scusate, sono stato un po' precipitoso No, ma a parte il fatto che io non abito più a Cuba Principe da dieci anni quindi... Ah, pensatene poco, io tengo tutti i numeri della gente che stiva a Cuba Principe Perciò io non... Vi chiedo scusa, avete capito qui però qua ero nato signor Silvio, ora ero convinto che stiva ancora no, e allora non si può fare state lontano, state lontano dalla zona Sì, è stato al boomer a Pocillico Ah, avete fatto i soldi? Assolutamente Eeeh, venate tutti i casi a Pocillico a Cuba Principe a Pocillico E vabbè, qualcosa di piatto con bangolotti ah, diciamo la verità Qualcosa è cambiato nella vostra vita Non si è gannata Comunque... Dici, diciamo la verità per sapere perchè poi da Cuba Principe che per l'amore del cielo io amo perchè figuratevi ci sono nato però da Cuba Principe perché ha finito a Pocillico qualcosa da essere successo? No, ho detto per modo di dire abito a... a Rione Alto Ah, e perchè ha detto Pocillico? Per Rione Alto? Ma così, per dire che hai gannato proprio l'alto Ah... Beh, ma Rione Alto però comunque è una bella zona E' Cuba Principe, parlamici chiaramente E' abitato perchè lavoravo lì a Pocillico e me lo so chiudo là Vabbè, ma ora si sono pensionato, se mi ricordo bene c'è parecchio poi o no? No, sì, sì, sono parecchio E' figurato Ma ci sono... Ma per fare cose, ma tanto... Eh, signor, ma tanto non venite quindi che vuoi dico a fare? Però per curiosità vuoi dico stesso Siccome non piove da tanto tempo, no? Ho fatto solo questi due coccini, poco a finire ma... e purtroppo c'è bisogno per i raccolti, per cose Noi abbiamo organizzato la Danza della Pioggia Oddio A mesi giorno Per tutta Cuba Principe Già si mette 70 persone Ma... Oggi Oggi a mezzogiorno Ma voi sicuro venite mezz'ora più tardi comunque noi iniziamo un po' più tardi che veniva a Cuba Principe a Coppo Vombrano pochi tempi ce l'ho Dove... Dove... In mezzo in mezzo a Cuba Principe a mezza strada Ah, poi per metà vicino a chi? Eh... Ci hanno fatto le promesse vicino a chi? E bloccammo traffico e facemmo la Danza della Pioggia E' una cosa bella che creerà assai a mani tua capite? Sono di origine indiana Un po' tutti quanti noi ci mettiamo a fare la Danza della Pioggia e ma da creerà anche se non doveste venire Voi facitemi sapere se avutate l'uno l'uno è qualcosa che ho Pure un Coppo Vombrano già sapere Com'è? Come si fa? Come si fa? E' bellissimo qui facciamo praticamente mettiamo disca sotto e facciamo Uh bu 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 Ah 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 Vabbè, Il Chidi è molto bravo Mi ringrazio Mi ringrazio Mi ringrazio Mi ringrazio Che facete? Venite! Ma questo è un po' Vi aspetto Signor Silvio grazie della... Signor Silvio chiamo... ... 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 mi aspetta passate la notizia va bene arrivederci signor silvio è stato un piacere